In questo affresco c'è una donna che suona un liuto e un'altra suona il pianoforte. Una donna girata di spalle suona un violoncello. La donna proprio dietro sta ascoltando. Il figlio della famiglia tiene in mano uno spartito. L'uomo a sinistra probabilmente è il padrone di casa, vestito con armatura. Forse è un po' annoiato. Sta guardando il pubblico. Secondo noi sembra un po' strano perché questa è una scena allegra. Ma lui ha un aspetto molto serio e fa paura a questa figura in armatura. Forse vuole andare in guerra. L'abito più bello è quello della donna a destra. La donna è di seta e sopra di meletto. Ha bei gioielli, una colana di perle anche nei capelli. Ha anche orecchini di perle. La donna con il liuto ha una colana d'oro. La donna con il violoncello ha un braccialetto di perle e di pietre. Il figlio ha una spada sulla cintura. Sullo sfondo c'è un tempio romano e davanti un pozzo. kor ATCO. Grazie. Grazie.